Sparigliare le carte per rendere più frizzante il finale di stagione, la voglia è sempre quella, con Lanciano che nelle dichiarazioni ufficiali parla di salvezza da raggiungere col conforto dell'aritmetica, nelle intenzioni invece chissà che non punti ancora a fare la voce grossa, appellandosi ad otto finali e all'obiettivo di non vivere nell'anonimato il prossimo futuro, arricchendo così la lotta play-off. Certo, la sconfitta di Livorno ha scombinato i piani, confermando un trend in flessione rispetto al girone di andata. Si perde di più, si pareggia di meno, con un deficit di sei punti in meno rispetto allo stesso periodo. Comunque la Virtus c'è e si mette fretta in una rincorsa che non concede più pause di riflessioni o errori. Roberto D'Aversa vuole solidità, unità di intenti, continuità di qui siano alla fine, poi si tireranno le somme. Nelle ultime quattro partite il bilancio fa l'altalena, due vittorie in casa, altre tante fuori. L'attacco segna di meno, ma finalmente si potrà contare a pieno regime su Cerri e Monachello, con gli impegni in azzurro finalmente terminati. È sempre un onore, un orgoglio andare in nazionale, insomma, vestire, portare in alto la bandiera del tuo paese è sempre bello. Sicuramente il campionato, cioè per me, che vorrei dare magari di più qua, faccio più fatica perché spesso vengo portato via a settimane, però sono comunque contento. Il mio obiettivo è giocare il più possibile e poi ovviamente ritornare al gol, sperando di non farne solo uno. Con Latina, ecco l'ora delle verità, l'avversario è stato costruito per altri obiettivi e si trova adesso a dover racimolare i punti necessari alla quota salvezza. Pagher e Turchi hanno lavorato a parte bene tutti gli altri. Qualcuno fa notare che se dietro alle spalle dei rossoneri c'è il Bari che continua a cullare con tutte le forze il sogno playoff, lo stesso obiettivo sarebbe quanto mai lecito per gli abruzzesi. Per adesso però bisogna vincere con i pontini e arrivare a quota 49, poi si vedrà giorno dopo giorno. E ieri appuntamento insolito del martedì con la trasmissione ufficiale Virtus Lanciano, tra gli ospiti il difensore Andrea Conti. Di starci vicini perché è un momento fondamentale per la stagione, per qualsiasi obiettivo, sia per la salvezza che per eventuali playoff. Sabato sarà fondamentale, noi daremo il massimo e andremo in campo sicuramente per vincere.